Il lunedì è un giorno pieno di rottori, però poi quando fai delle cose tipo andare a fare la spesa e non trovi nessuno, tipo adesso, diventa anche rilassante farlo. Ma vi faccio una domanda, ha 42 anni, è normale? Aspetta, ti faccio vedere le altre due. Ma patatina? Aspetta, dove c'è? No! Francesco Oppini ha iniziato il suo lunedì di settembre in modo inaspettato. Dopo aver fatto la spesa al supermercato, durante il tragitto verso casa, ha incontrato un piccolo gattino appena nato, probabilmente abbandonato o allontanatosi dalla madre. Senza esitazione, Francesco ha deciso di intervenire, prendendo il gattino con sé e portandolo in macchina. Una volta osservato meglio, si è accorto che si trattava di una femmina. Questo gesto di grande sensibilità non sorprende chi conosce Francesco e la sua famiglia, in particolare il profondo amore che lui e sua madre nutrono per i gatti. È quindi molto probabile che il gattino troverà presto una nuova casa accogliente e affettuosa con Francesco. L'attesa ora è tutta per i prossimi video, in cui sicuramente vedremo la piccola ambientarsi e diventare parte della vita quotidiana di Francesco. Un gesto semplice ma significativo, che riflette l'importanza dell'empatia verso gli animali e la capacità di prendersi cura dei più indifini.